Nei giorni scorsi il comune di Agropoli è stato oggetto di accuse riguardanti possibili errori commessi dall'ufficio Tributi di Agropoli nella determinazione dell'Atari, inviando bollette più elevate del solito ai contribuenti. L'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi ha sottolineato il corretto operato dell'ufficio Tributi, specificando che gli avvisi di accertamento sono scaturiti dal fatto che i contribuenti avevano omesso di denunciare ai finitari delle unità immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione principale, chiarendo che l'attività svolta dall'ufficio merita un plauso. Voglio tranquillizzare tutti i cittadini che l'ente nella propria attività ordinaria di emissione dei ruoli non ha commesso nessun errore di questo genere, ha regolarmente rispettato tutti quelli che sono le norme e quindi non ci sta nessuna possibilità che l'Atari possa essere stata conviata. Nel caso, giusto però per essere puntuali, nel caso specifico che è stato oggetto di contestazione, voglio ricordare che si trattava di un'attività accertativa fatta dall'Ende, in cui l'Ende ha scovato a danno di questi contribuenti l'omissione dalla base imponibile di superficie che era relativa a delle pertinenze non dichiarate presso l'ufficio tributi, quindi a delle pertinenze che possono essere dei sottotetti e che possono essere dei garage. L'attività accertativa ha fatto in modo che venisse scoperte, però purtroppo l'attività accertativa si è dovuta fermare secondo i termini di prescrizione di cui parlavamo prima, non può andare oltre i cinque anni, quindi l'Ende ha accertato al danno di questi cittadini la superficie omessa. Anche in questo caso c'è una interpretazione non univoca della norma, se in questo caso si doveva applicare o meno una maggiorazione che in termini tecnici della data è detta parte variabile. Cosa è successo? L'ufficio tributi aveva messo a corrente di questa criticità questo assessorato e già con i responsabili del servizio finanziario prima che poi succedesse il problema del covid, quindi le attività poi sono state un attimino rallentate da parte dell'ente e quindi anche di correggere questi avvisi venendo in contro le richieste di questi contribuenti, rettificando gli avvisi stessi, togliendo la parte variabile. Mi dispiace che fosse passato, io questo volevo dire, voglio tranquillizzare gli utenti qualora notaste degli errori anche negli avvisi che purtroppo possono succedere, possono accadere parliamo di 11 mila bollette tari annuali, quindi con questi numeri è facile che si possano commettere degli errori, che qualora si riscontrassero degli errori l'ufficio tributi è a disposizione per eventuali cosezioni, per eventuali rettifiche. Non vorrei tranquillizzare che anche questa attività viene regolarmente svolta dall'ufficio tributi anche senza necessità di rivolgersi a degli avvocati o dei difensori o a dei professionisti. Parlo io, ancora prima, posso dirlo tranquillamente io, come professionista, ancora prima di essere assessore mi è capitato di dover assistere ai miei contribuenti che in passato avevano avuto degli avvisi di accertamento i mutari, ma tranquillamente l'ufficio tributi con la documentazione alla mano ha preso atto degli errori commessi e ha tranquillamente corretto io. Quindi invito i cittadini da un lato a tranquillizzarsi per quanto riguarda l'attività ordinaria che è stata svolta regolarmente, dall'altro lato, ripeto, qualora riscontrassero degli errori tranquillamente a regarsi verso l'ufficio tributi, a far presente l'ietro di commesso che l'ufficio tributi è completamente a disposizione e a correggere questi eventuali errori.